ciao a tutti allora eccomi qui con un nuovo video non sarà un video molto molto lungo voglio farvi vedere degli acquisti che ho fatto allora premetto che ragazze non ho ho solamente un filo di trucco perché sto facendo respirare un po la pelle perché magari ho la mascherina quindi non voglio diciamo a volte trucco magari solo un po gli occhi però faccio respirare un pochettino la pelle poi magari stasera che venerdì metto un altro pochettino di trucco comunque ho fatto degli acquisti molto convenienti oggi sono uscita stamattina sto riflettendo del fatto che mia mamma i miei genitori sono qui sono qui a trovare dopo sei mesi che non li vedevo quindi dopo quasi sei mesi che non ci vedevamo quindi sono molto contenta allora iniziamo subito intanto voglio parlarvi di questa crema questa è una crema venus che si chiama acqua 24 ed è una crema idratante multivitaminica la sto provando da un po prima volevo testarla e mi sto trovando molto molto bene questo è da 50 ml e assicuro un'azione idratante unita un'immediata carica di energie vitalità indicata quando la pelle appare stanca spenta e segnata si usa mattina e sera sul viso e collo puliti è anche ideale infatti io la utilizzo come base trucco ed è così quindi è questo rosa arancione e l'odore è buonissimo ed è multivitaminica quindi è della venus e io mi sto trovando veramente bene infatti ve ne sto parlando infatti la utilizzo da un po e ve ne ho voluto parlare ma andiamo con gli acquisti di oggi allora ho preso questo olio di mandorle di italfarma questo qui è un olio anti smagliature idratante per pelli secche e allora ragazzi questo costava 19,99 io questi prodotti che vi sto facendo vedere li ho pagati solamente 3 euro quindi erano un super sconto mentre questa qui l'ho pagata un po di più però molto anche questa molto economica quindi solamente 3 euro ho preso quest'olio di mandorle anti smagliature idratante per pelli secche questo qui ragazzi è da 100 ml adesso vi faccio vedere anche come è all'interno allora vi leggo sempre io qui dietro cosa c'è scritto allora intanto l'olio di mandorle docci è un prodotto per il corpo dalle molteplici qualità proposto puro al 100 per cento per conservare le sue qualità naturali penetra bene nella pelle rilasciando i suoi principi attivi l'olio di mandorle è un piacevole alleato per la prevenzione delle smagliature e l'idratazione delle pelli secche come applicare allora per uso cosmetico porre una giusta quantità di prodotto sulle mani e massaggiare dolcemente il corpo fino al completo assorbimento usare mattina e sera dopo il bagno indicato per la cura della pelle in gravidanza nel periodo post parto ed ideale per eseguire leggeri massaggi anche sulla pelle dei bambini e degli anziani quindi ce l'ho preso subito poi era 19,99 l'ho preso solamente 3 euro cioè ragazze veramente ho colto subito l'occasione vi faccio vedere anche com'è all'interno eccolo qui il nostro olio di mandorle questo ovviamente poi ragazze vi farò la detenzione quando lo proverò per un po' andiamo avanti ho preso di dermativa cosmetica sempre 3 euro questo siero gel con tornocchi con ricco di acido ieluronico e l'argan io adoro l'argan questo è 30 ml adesso vi leggo sempre qui modo d'uso stendere sulla zona perioculare picchiettando delicatamente con la punta alle dita mattina e sera è di 30 ml adesso ecco questo qui era 24,90 non so se riuscite a vedere era 24,90 l'ho preso 3 euro quindi allora vi faccio vedere in pratica l'ho preso l'ho preso al mercato però è appunto una bancarella che vendeva vende cose appunto dei negozi e vendeva tutto 3 euro quindi io ho colto al volo è fatto così guardate molto carino così a spray come il fondotinta veramente molto molto carino c'è anche abbastanza prodotto quindi anche la scatola è molto carina poi a me stava finendo il contorno occhi quindi questo è proprio siero gel contorno occhi quindi direi che è ottimo poi per mia mamma ho preso che c'era anche lei quindi di farmacomplex la crema viso alla bava di lumaca che io ce l'ho ancora lì allora questa qui anti edge rigenere illumina questa è da 50 ml e vi leggo sempre qui allora crema viso effetto tensore d'anti rug dono uniformità all'incarnato minimizzando le macchie iper cromiche che appaiono sulla pelle matura la bava di lumaca è ricchissima in nuco polisaccaridi che le conferiscono la caratteristica viscosità le proprietà filmogene protettive di datanti è una crema anti edge rigenerante e compattante che garantisce un apporto durevole di sostanza attiva in grado di agire per ridare compattezza turgore dell'asticità e ridurre visibilmente le rughe e di ridefinire il viso il suo utilizzo permette di ritrovare in poco tempo una pelle distesa giovane luminosa e fresca applicare mattina su viso decoltè perfettamente puliti una piccola quantità di prodotto e massaggiare fino a completo assorbimento la sera utilizzare una quantità più importante e far planetare bene il prodotto con un leggero massaggio si consiglia l'uso per almeno due tre mesi vi faccio vedere com'è dentro questo è da 50 ml ed è fatta così molto carina anche questa l'ha presa mia mamma andiamo per ultimo ma non per perché questo è il mio preferito ragazzi è lo scrub al caffè che io di solito faccio quasi sempre naturalmente però ho comprato questo della italfarma che elimina la pelle secca e squamata esfoliante viso e corpo quindi anche per il viso è lo scrub al caffè però è crema crema scrub al caffè quindi allora questo era 19,99 io l'ho pagato 3 euro adesso vi leggo sempre qui che ci scritto la mia miscela originale di esfoliante a base di ingredienti naturali elimina l'epidermide secca e squamata lasciandola morbida liscia ed elastica allora utilizzo ogni 3-5 volte a settimana spogliati e sciacquati sotto la doccia versami nel palmo della tua mano spalmami su tutto il corpo massaggia vigorosamente sciacquati bene a fondo sotto una doccia ben calda e vi faccio vedere come dentro io adoro lo scrub al caffè ma questa crema di caffè io l'ho già odorata ragazze ecco fatto così è da 250 ml quindi c'è veramente tantissimo prodotto e dentro crema caffè con all'interno i pezzettini proprio di caffè ha proprio l'odore e il colore della crema caffè che prendiamo noi al al bar io adoro tra l'altro e quindi ragazze veramente poi mi farò magari la recensione quando la provo però veramente ottimo quindi ho preso questi prodotti che vi ho fatto vedere a 3 euro anziché 20 devo dire che è stato veramente un grosso affare infatti io appena non ho appena l'ho visti subito li ho comprati fatemi sapere se anche voi li utilizzate vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti di attivare la campanellina per non perdervi tutti i prossimi video e di seguirmi su instagram come chiara makeup beauty lì avete anche tantissimi consigli di skin care pulizia viso corpo capelli quindi mi raccomando seguitemi anche lì e ci vediamo con il prossimo video